Buongiorno, per cortesia, quando suoni qualche cosa e qua ci fa male la testa, fate una televisione. Ci stanno dei personaggi vicini di casa, magari, che non vogliono ascoltarti, ma manco ti fanno mettere per un attimo e ti vogliono cacciare. Però sono il colore di Napoli, diciamo così, sono personaggi belli, che a me piaceva anche affrontarli. E come li affronti, Pier? Li affronto, per esempio, pure ci faccio un video, diciamo, ma che int? Scusa, non c'è il video, ma non c'è il video. Ma perché trovo fastidio quando canto il caffè? No, non ce l'ho a me, ha tutto con l'occhio. Ah, ma mica tengo voluto sparare. E tu vuoi? Uno degli ultimi video che ha pubblicato, per esempio. Sì, sì, è stato molto divertente, molto divertente. La prossima volta penso di portargli una birra. Sì, sì, sì. Grazie a tutti.